Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, il primo dedicato alla saga dei bot, qualcosa che abbiamo già fatto in passato, i bot di Telegram li abbiamo già visti insieme in passato. Voglio riprendere questa rubrica perché più passa il tempo più i bot di Telegram diventano utili e indispensabili. Ho deciso di iniziare da un grande classico, sto parlando di Trackbot. Trackbot è la soluzione per tenere sotto controllo tutte le proprie spedizioni. Viene comodo avere a disposizione una chat che rapidamente ci faccia sapere quando il nostro pacco è in movimento. Trackbot è molto molto semplice da utilizzare, vi basterà avviarlo e sotto avrete una serie di opzioni. Potrete aggiungere una spedizione da monitorare, poi avrete a disposizione l'elenco di tutte le spedizioni che state monitorando, le stesse potrete andare a modificare oppure decidere di condividerle con qualche contatto. Trackbot è più forte che mai, adesso funziona molto molto bene, l'ho iniziato a ritestare perché prima di proporvi qualcosa naturalmente preferisco provarla. Non fatevi scappare il Trackbot perché per tenere sotto controllo tutte le proprie spedizioni è veramente comodissimo. Naturalmente nell'info box e anche nel primo commento vi lascio il link per provarlo subito. Ciao!